ciao ragazzi finalmente si è deciso a fare il video penso che abbia posto il primo uomo dopo che ho gettato via due sacchi di materiale per il mio ragazzi ovviamente ho cambiato il fondo due volte ma lei ci giocava non lo so una cosa ma almeno dico almeno abbiamo avuto il piacere di vederla finito e come ho detto penso che l'altro è un bellissimo maschio che faccio vedere se si calma un attimo ecco il caso che il focus non l'ha preso intanto che è cerzata vediamo siamo insieme io neanche ho visto allora eccolo qua ragazzi finalmente faccio dire quanto è piccolo ovviamente dobbiamo mettere uovo di plastica che metterò subito appena uscito il video io voglio far vedere solamente il maschio eccolo qua peccato che il focus ovviamente zero oggi non so perchè non puoi nessun focus ovviamente secondo me è preciso troppo non viene il telefono è ottimo per fare i video ma penso che si veda dai ecco qua ragazzi non posso zoomare troppo altrimenti il focus che imprende questo il maschio quella è la femminuccia un'altra due passa bellissimi e finalmente fare posto il suo con questo video volevo farvi vedere che non vi dovete mai arrendere anche se lei gioca tutto il giorno con il materiale tutto lasciatela fare ok vi ho detto ragazzi ho cambiato tre volte il fondo dopo mi sono reso ho detto guarda facciamo che fa quello che vuole e vediamo che fa infatti il risultato è inutile finalmente dai ragazzi è quasi finita ma dobbiamo dare l'ultimo respiro e poi ci verseremo ok